ciao 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 libia allora benvenuta tu sei in italia sei a londra dove vivi sono a londra nella mia casina aspetta che ti alzo un attimo di volume perché sento un pochino lontana ci aggiustiamo un attimo all'inizio dico questo per farmi gli affari tuoi per far sapere che sei londra perché in realtà è una informazione significativa in realtà questo libro uscito per da in questi giorni credo doveva uscire il giorno esatto insomma in questi giorni sì il 26 maggio in italia e l'anno scorso gennaio il paperback quello dice a questa è una prima uscita italiana ma non è la prima volta che esce il tuo libro perché il tuo libro esce originariamente in lingua inglese questa è una cosa che magari non tutti sanno è un anche una non è un esperimento però in realtà per te lo è stato in realtà cimentarti con un'altra lingua il tuo primo romanzo e più tardi infatti ti farò anche ti chiederò di questo perché è interessante sapere come hai lavorato in lingua origine lingua poi in cui tu hai concepito il libro poi l'hai scritto e poi com'è andata la fase della traduzione perché in realtà non è una cosa che hai fatto tu in prima persona ma è stata veronica raimo a tradurlo e tu sicuramente hai lavorato con lei e anzi so che diciamo è un po è un po diverso diciamo il libro italiano rispetto a quello inglese parleremo sicuramente anche di anche di questo due parole su gusci brevemente gusci è la storia di ruth che è una infermiera che lavora in una casa di riporto russo di londra che viene lasciata dal fidanzato con cui sta da dieci anni nilla questa diciamo è la macro trama poi c'è adentreremo magari un po nella trama però e quindi diciamo ruth deve elaborare questo lutto insomma realtà ci sono passati tutti però come ogni buon romanzo che che si rispetti deve sottostare a delle regole una delle regole più secondo me più importante più interessanti è che le cose non sono mai quello che sembrano in questo romanzo in particolare le cose non sono mai quello che sembrano dall'inizio alla fine e ovviamente io non svelerò il finale ma pur non essendo un giallo pur non essendo un thriller alla fine c'è una svolta totalmente inaspettata che fa un po guardare indietro a tutto il romanzo con occhi diversi ecco dando anche interpretazioni diverse a quello che è successo fino fino a quel momento ecco in larghissimo in larghissimo larghissima larghissime immagini questa diciamo la trama del libro le cose non sono quello che sembrano la prima cosa che non è quello che sembra è proprio la relazione tra questi due personaggi stanno insieme da tantissimi anni ma la la cosa che è una delle cose delle cose che mi ha più colpito di questo romanzo è come tu tratti il rapporto uomo donna la relazione uomo donna questa è una diciamo delle tematiche più macro diciamo di questo di questo libro e che analizza senza farlo perché in realtà una storia non è certamente un saggio analizza molto bene quello che sono i rapporti con oggi tra in una coppia etero eterosessuali ecco questa è la prima cosa che ti che voglio sapere da te se questo libro era nato proprio nella tua testa come un qualcosa che poteva andare a esplorare questo tema e se era un tema che ti stava così a cuore come mi sembra allora sì sì assolutamente è nato il libro tutto forse proprio da una volontà di problematizzare da una ricerca in particolare da da un punto di vista femminista su quelle che sono le quelle che potremmo chiamare le istituzioni patriarcali se vogliamo spingerci a fare una generalizzazione enorme tra le quali rientra certamente un certo percorso normativo della coppia che è quello che poi nel libro viene dipinto nel momento in cui si disintegra ecco se vogliamo e quindi in realtà poi della coppia del rapporto di coppia sappiamo molto poco lo scopriamo a pezzi dopo mentre leggiamo quello che quello che viene dopo il rapporto di coppia però sicuramente c'era l'idea di voler problematizzare quella che è un'istituzione che viene considerata normale che viene considerata la come si a dire poi piano piano sempre meno però che per molti che che tuttora viene considerata la la l'istituzione l'istituzione della coppia etrosessuale e e c'era in questa voglia di esplodere questa istituzione che poi anche un'istituzione narrativa quella del romanzo abbiamo parlato in questi giorni con l'indafava del romanzo d'amore del romanzo dal punto di vista di una donna che ha a che fare con una controparte maschile c'era sicuramente su un binario parallelo il voler decostruire la forma romanzo d'amore e al contempo mettere in discussione quella che è un'istituzione che viene percepita dall'esterno in quanto normata come forse opaca nel senso che ci sono molte narrative standardizzate convenzionali di quello che all'arco di una storia d'amore da dall'inizio al continuamento al continuamento la continuazione inglese ogni tanto mi questi giorni qua fra l'altro in particolare e quindi nel suo sviluppo tramite le tappe quelle che sono considerate socialmente accettabili quindi ci si fidanza nella prima parte dei propri vent'anni e si raggiungono alcuni punti chiave dello sviluppo ideale di una coppia queste sono appunto istituzioni che se di vuole per molti versi sono sempre più in discussione però ecco io che sono una donna di nella prima metà dei miei trent'anni le ho vissute come influenze normanti molto importanti e tuttora essendo una donna di poco più di trent'anni ne sento l'influenza nei momenti in cui si ha uno scambio intergenerazionale magari con qualcuno di più grande di noi d'età che ha vissuto secondo altre normatività forse ancora più rigide di quelle che abbiamo visto noi però devo dire anche nel dare per scontato una semplicità di svolgimento della coppia da parte di chi è della stessa generazione comunque alla pari in qualche maniera di visione del mondo questa è una cosa che volevo mettere in discussione che in genere vorrei mettere in discussione nella vita anche in un senso positivo nel senso che le storie d'amore non sono non sono uguali nella loro normatività non sono uguali al di fuori della normatività mi sembra mi sembra dannoso aspettarselo aspettarsi una certa convenzionalità dello sviluppo ma anche dannoso aspettarsi che si fuoriesca da quella convenzionalità di fondo questo va a cancellare tutte le identità che stanno su questo sotto questo grande ombrello delle relazioni poi ai fatti nel romanzo essendo una relazione molto normata ehm con secondo criteri di potere di sbilanciamento di potere a favore dell'uomo purtroppo si rivela una relazione che eh e appunto non entro nel marito però una serie di problematiche che è articolata su una dinamica appunto di potere che è sbilanciata e per questo volevo discuterla e come dire come smontarne le parti per sottoporle a un'osservazione le cui conclusioni vengono tratte ehm da chi la legge ecco certo in questa coppia c'è sicuramente questo sbilanciamento di potere ehm quello che ho notato anche e che è poi un po' la piaga di del genere umano io credo eh proprio per dirla per metterla semplice ehm in entrambi i personaggi c'è una ehm una eh in realtà non non riescono veramente a vedere l'altro e l'altro è sempre una rappresentazione di un qualcosa di eh o una proiezione di un qualcosa che in realtà eh non esiste esiste forse appunto in una idea in un ideale eh la donna eh tenera eh uccellino la donna fragile che deve essere comunque eh presa sotto l'ala di un uomo più grande più e più forte ehm e in realtà eh è una quello che accade poi anche spesso poi nella vita reale in realtà i romanzi sono ehm rubano e prendono da quella ehm sono sempre sono spesso purtroppo proiezioni ecco questa è una cosa che ti ehm che avevi in mente quando hai pensato a questa relazione in particolare allora sì assolutamente ehm diciamo che proprio il personaggio di Ruth so che magari dopo ne parliamo meglio però è nato da questa voglia di costruire come come si può dire un quello che gli inglesi chiamano il blank canvas quindi una 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 tela bianca su cui proiettare le le identità altrui ed è nata proprio come personaggio questa era la sua essenza e quello che tu dici sulle proiezioni mi sembra molto acuto e mi sembra catturare ehm quello che io cercavo di fare nel rendere tutto un personaggio anche ambivalente allora fermo restando che il loro rapporto parte eh è un ehm non mi parla di armi nel contesto circoscritto di questo rapporto perché poi verrà fuori che c'è un conflitto che non è risolto in cui appunto ehm il parlare di armi che purtroppo in questo momento se ne se ne fa troppo di parlare di armi quindi sono particolarmente sensibile però è diciamo che è un è un confronto che parte ad armi in pari e questa è una cosa cui eh diciamo una lettura eh macroscopica del romanzo sono eh sento che è molto importante dire cioè Ruth ehm quando si mette con Neil a 19 anni ehm senza rivelare il resto del romanzo però ecco c'è c'è un pattern per cui Neil segue alcuni pattern che sono suoi preesistenti ehm e che forse fanno parte della maniera in cui lui si approccia al femminile e il rapporto parte ad armi in pari perché c'è una scelta da parte di Neil chiara ehm di questa persona e questo è questo è un pattern che purtroppo è una dinamica di potere che io credo che chiunque eh qualsiasi qualsiasi donna sicuramente l'ha vista nelle persone che la circondano e e e qualsiasi persona penso l'abbia vista nelle persone che gli stanno accanto eh la famosa dinamica appunto dell'uomo che sceglie la donna vulnerabile e quando quella donna non è più vulnerabile o anche prima se si stufa ne sceglie un'altra che altrettanto vulnerabile perché 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 la cosa che importa è mantenere fissa la propria percezione di sé quindi diciamo che Neil proietta quello che vuole quello che gli serve su Ruth però la cosa che che per cui ti ringrazio di questa domanda di come me l'hai posta è ehm perché hai allargato il campo dell'ambivalenza sulle proiezioni anche su Ruth io non ho molto a cuore questo personaggio ovviamente però è un personaggio che anche per me ha delle asperità e degli aspetti in cui non non mi non mi ritrovo e una delle principali autorità e asperità è che comunque è una donna che vive in un contesto occidentale dove ha una serie di privilegi come ultimo un lavoro che che la mantiene un contesto in cui un background di una piccola borghesia per cui può andare a visitare la madre in una casa di proprietà ad esempio e ha tutta una serie di strumenti che se volesse potrebbe provare a sfruttare eh quantomeno per non limitare la percezione di se stessa per non per non scegliere che la percezione di se stessa sia determinata dall'esterno ovviamente questo è un processo molto complesso però quello che ci tango a eh sottolineare che Ruth è anche il tipo di personaggio che dice apertamente mh io non metto in discussione le regole che servono a me è anche il tipo di personaggio che dice apertamente che non si fida delle altre donne perché ha già deciso a monte che delle altre donne non ci si può fidare in una certa maniera quindi è giusto anche sottolineare questo che la decisione di non mettersi in gioco non problematizzare gli strumenti che uno ha eh è una decisione che lei prende ed accetta queste proiezioni poi nel rapporto con Neil ovviamente non si schiocca come sappiamo tutte non si schioccano le dita e ci se ne rende conto di questa cosa se sei in una dinamica che te la nasconde perché il rapporto esiste sulla base di questa dinamica certo infatti Ruth ehm che è un po' il cardine di questo romanzo ehm è un personaggio che eh io non ho capito bene cioè che mi è eh mi risulta molto opaco è un personaggio estremamente ambiguo e per me è addirittura misterioso infatti mi fa un po' ehm mi piace questo fatto che tu parli di lei come se la conoscessi tu lei tu lei l'hai partorita non so come dire quindi tu la conosci più di tante però mi chiedo mentre tu parli ma tu conosci cioè ma Livia la conosce veramente Ruth perché è un personaggio che eh quando tu hai iniziato un po' a volerle bene fa una cosa o dice una un qualcosa che ti ehm ti fa un po' ballare sulla sul sul posto cioè ehm quando tu ti sei fatto un'idea di lei ehm in realtà non 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 corrisponde poi in realtà a quello che lei che è lei veramente quindi ti volevo chiedere com'è che nasce questo personaggio e quindi come nasce poi il romanzo che le ruote intorno e parlavamo prima di immagini in particolare un'immagine molto chiara ehm in testa eh della primissimo il primo il primo momento di genesi del romanzo ed era se non ero ero sotto pressione per qualche motivo perché dovevo scrivere forse per un un workshop di scrittori non non ricordo comunque ero molto spaventata dovevo scrivere qualcosa su due piedi era davvero quanto fa ehm tanto troppo duemila forse duemila undici tanto tempo fa e e avevo scritto questa prima immagine questo sketch sotto forse addirittura in una classe in cui dovevo scrivere sotto pressione ed era questa idea di questa donna ed è buffo perché nel libro è rimasta questa immagine del la la stessa immagine ed era l'immagine di una donna che nella doccia inizia a radersi le gambe e finisce per ehm radersi tutti tutta la pelluria del corpo inclusi i capelli le sopracciglia come se si cancellasse ci fosse un atto di ehm rinascita di qualche tipo questo è buffo perché qui non credo di svelare niente ma alla fine del primo capitolo ad adesso invece è Neil che si che si rade a zero per una serie di motivi che poi si scoprono e e quindi diciamo che la se devo trovare insomma la 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 il 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 guscio il il noccio del significato del personaggio insomma come è nato il personaggio è nato proprio da questa nozione di come si fa ehm a creare un personaggio che non ha eh definizione che viene definita esternamente ora questo ovviamente è una cosa che io ho fatto 22 23 anni quando mi avevo dato l'idea per questo romanzo poi ho deciso di perseguire cosa difficilissima dato che se una persona vuole scrivere una trama di un romanzo e avere un personaggio un protagonista che questa trama l'arriva ehm ti sei sparato noi non ti ademai entrambi proprio di partenza quindi la scienza è stata molto lunga però evidentemente c'era qualcosa in questo personaggio senza senza identità che mi interessava e quindi poi piano piano ho cominciato a a costruirla intorno un mondo e quindi che cosa può fare di mestiere una persona che non vuole definire se stessa qual è un mestiere in cui ci si mette completamente al servizio in devozione complata di qualcun altro e quindi è diventato un infermiere una casa di riposo poi ehm ho sviluppato la relazione con Neil ed è stato un processo buffo perché ehm in un primo momento siccome la mia il mio accesso a questo personaggio era mh quasi di tipo formale e l'approccio formale è rimasto nel romanzo per come è articolato ehm però comunque io la volevo tenere dove era perché mi serviva era come se fosse uno studio è è veramente partito come uno studio questo 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 romanzo un po' perché studiavo io e faccio ricerca di parallelamente sulle stesse cose un po' perché mi interessava capire quali sono i campi di forza che agiscono sull'identità di una donna in particolare della nostra età e mh è partita come studio aggiungo solo mi inserisco dicendo che eh tu hai fatto mentre tu facevi lo studio in realtà poi eh non so se è stato conscio no ma lo stesso studio lo hai fatto fare a Neil perché all'inizio quando lui la vede per la prima volta la studia e in realtà la crea sì esatto esattamente la la crea e lei si lascia creare e sicuramente lui è la voce più forte è l'unica altra voce realmente in prima persona che parla senza un formato esterno però per quanto riguarda Ruth lei è è cambiata perché fondamentalmente mentre lei si costruiva intorno a questo mondo a un certo punto mi sono trovata con questo personaggio cioè l'impianto formale esisteva quali sono i campi d'azione che cambiano la vita di una persona a un certo punto questa persona è diventata effettivamente una persona e io mi sono resa conto di avere un personaggio molto più intelligente prima di tutto io credo che sia una cosa che succede a tanti scrittori che ti rendi conto che vuoi il personaggio che fa una funzione e poi ti rendi conto che c'è qualcosa intorno mi quando insegno scrittura creativa tantissimi studenti mi dicono ho cominciato a raccontare questa storia di una bambina col suo cane e ora è tutta sulla nonna perché entra la nonna che porta panna e nutella e poi parliamo della nonna e quindi questa persona è diventata più ambivalente più più antipatica per molti versi ha preso vita ed è cambiato ulteriormente in questa traduzione italiana secondo me canola sa che a me rende molto felice perché comunque il libro sta molto lunga ed è anche un sollievo che sia più ancora più viva forse raccontaci come questo percorso perché in realtà è stato un percorso cioè nasce nella testa assolutamente no dico un'ultima cosa sul retef che fa parte del percorso che in questi giorni ho fatto un po' di presentazioni a cosa intorno al libro e ho letto un po' di recensioni che sono uscite sia su testate che su blog è una cosa che mi ha fatto molto rida di cui ne parlavo con i miei le mie poche interazioni insomma sotto lockdown inglesi è che tutti gli italiani credono che sia poco realistico che due persone si lasciano dopo dieci anni e non si parlino più per mesi mentre questa è una domanda che in inghilterra nessuno mi fa mai cioè questa idea della storia passiva aggressivi è assolutamente cioè di tante tanti comunque prospettive con cui si può guardare o attaccare questo libro l'idea che comunque due persone può darsi che non si parlano per un anno dopo che si lasciano dopo dieci anni l'inglese per l'inglese non è stato un problema e già però già di per suo ti rende ti rende ti far rendere conto di cosa cosa e quanto cambia nella trasposizione nella traduzione perché tu pensa che cioè questo è l'inizio del libro no lui se ne va e non dice più niente ed è una cosa che in Italia è poco realistica è interessante e normale che cambia questo personaggio che cambia in dialogo appunto con la traduttrice che l'ha tradotto Veronica Raimo e che cambia poi nella revisione dopo mia anche perché comunque vanno fermo il fatto che io avevo grandissima ammirazione per Veronica che ha tradotto il libro da prima quindi io ho insistito io lei è stata molto rigorosa all'inizio del processo però io ho proprio insistito che lei facesse un po cosa voleva con questo romanzo perché mi piaceva che ci fosse una vita che continuava e stando come dici tu il personaggio impenetrabile più che impenetrabile forse interpretabile sono dei momenti in cui è misterioso anche per me io ho deciso tardissimo cosa succedeva alla fine e forse non sono troppo sicura di cosa è successo nemmeno io no e quindi non risuondo mai non risuondo mai e però è cresciuta è diventata una persona leggermente diversa in italiano io la trovo più reattiva che per me è stato un grande sollievo perché dopo un anno di questo libro nel mondo con questo protagonista che subisce tantissimo è stato bello che trovasse un po' almeno su un piano del tono poi gli avanti sono gli stessi però reagisce un po' di più ah ok bello dici tu l'hai appena letta e dici ma insomma subisce tanto anche in questa versione subisce però io non riesco a vederla come un personaggio passivo totalmente forse perché sono arrivata alla fine e quindi so più cose di quelle che stiamo dicendo ora no la trovo un personaggio è forte forse resistente a qualcosa che forse non sa neanche lei quindi è una forza ma nel restare non nell'avanzare ecco di nell'opporsi a un'evoluzione un tema che ricorre spesso è e l'ho trovato ecco questa è una cosa che mi aveva invece che a me ha suonato forse perché ho passato quell'età lì e quindi mi è suonato un po' l'ho proprio notato il fatto che spesso i personaggi di questo libro ricordino a se stessi e al lettore che che sono adulti cioè in realtà tu li prendi in un'età che è sui 30 anni in cui forse perché ho dimenticato l'età dei 30 anni io mi rivedo mi vedo già adulta invece i tuoi personaggi no i tuoi personaggi sono in piena crescita e spesso se lo ripetono si ripetono ma io sono adulto se faccio così ma io sembro adulto se faccio se faccio quest'altra cosa ecco tu quindi ti chiedevo se tu avevi sentito questo passaggio di età santi sicuramente è un libro che dove sei più vicino a quest'età quindi sì 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 ma sicuramente parlavo con Claudia D'Oro Stanti qualche giorno fa e a un certo punto mi sono interrotta per dirle che comunque perché ci conosciamo molto bene mi ha preso delle domande su idee che sono comunque in flusso in divenire e mi sono interrotta un certo punto e ho detto ti sto raccontando i miei 20 anni perché quando ho avuto una genesi così lunga effettivamente ci sono parti che poi ho dovuto ribilanciare io credo che nell'affattispaio per quanto riguarda Ruth c'è anche il problema che questa relazione ha tolto 10 anni della sua vita quindi si riallaccia alle versioni di sé che conosceva prima che sono quelle dei prima prima dei 20 anni che sono proiezioni che almeno io che ne ho 33 ci ho messo gli ultimi 10 anni a scomporre e superare per non ricordare a me stessa che sono adulta ogni giorno della mia vita perché se non avessi passato gli ultimi 10 anni a fare questo processo molto probabilmente dovrai ricordarmi anche perché sono alcune esperienze che se non sia formativa ma per un personaggio come lei portano grandissimo dolore e senso di dubbio sulla persona che è quindi ecco per quanto riguarda lei penso che sia anche dato da questo fattore sicuramente c'è un fattore anche generazionale che però poi diciamo che Ruth in realtà che lavora alla stessa casa di riposo da molti anni forse l'ha vissuto meno sicuramente c'è anche lo sguardo di una persona che poi sono io questa cosa che mi dici io non ne ero conscia per esempio cioè ne ero conscia su un piano di controllo del personaggio cioè che lei fa riferimento a 10 anni prima per quello che ti ho detto però negli altri personaggi non ne ero conscia ma penso che possa venire come particolare focus in senso da una generazione ultra precarizzata anzi sembrava che piano piano nei stessi musciani però invece ma è quello io credo sia quello in realtà si trovano in quella fascia d'età in cui sì c'è un lavoro però ancora non c'è stato un passaggio almeno conscio in realtà poi tu avendoli creati avendoli scritti quello era anche il tuo sguardo certo seguite da quando avevano 20 anni è un po' come certo non è che mi piace tanto questa cosa di dire che sono dei figli però in realtà essendo tue creature le hai viste crescere quindi sì 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 assolutamente sì sicuramente e devo dire che io sono molto a mio agio in realtà con questa idea di cioè sono sono contro l'etichetta del romanzo millennial con alcuni particolari tratti formali o di composizione che devono essere per forza tutti uguali sono contro io sono generalmente molto sospettosa della nozione di canone quindi questo non mi interessa però invece l'identità generazionale mia sono molto a mio agio cioè sono molto a mio agio con il fatto che sia anche il momento di reclamare alcuni strumenti e focus di attenzione che sono quelli della nostra generazione insomma siamo siamo grandi per usare per usare una cosa che ci viene detta per tenerci come figli quindi questo questo voglio aggiungerlo perché perché non mi dispiace se si riscontrano queste cose un altro dei cardini che fa un po' da contraltare diciamo al coming of age di questo personaggio che è Ruth è l'amicizia l'amicizia con questa ragazza che si chiama Alanna che è in realtà una vecchissima amicizia perché loro hanno fatto le scuole insieme poi si sono perse e si ritrovano sul posto di lavoro è un rapporto sicuramente problematico perché sono innanzitutto personalità opposte per quanto Alanna è estroversa frivola festagliola piena di uomini abbiamo d'altra parte Ruth che ha questa rigidità sua immaturità e questo rapporto che poi la seppellisce viva la tiene sotto insomma non la fa mai uscire fuori non mette mai fuori la testa in realtà Ruth questa amicizia che è una amicizia sono amiche nemiche in realtà perché comunque parte con una forte antipatia poi dopo in realtà c'è anche a volte un po' di rivalità è una cosa che si ripete quando si ritrovano da adulte quando io penso all'amicizia femminile nei romanzi non posso che pensare all'amica geniale l'amica geniale di Elena Ferrante che è stato il romanzo dell'amicizia femminile i romanzi in realtà sono quattro libri e ci volevano tutti secondo me tutti ce ne sarebbero volute anche altri in realtà è una tematica che prima non era stato era stata solamente sfiorata da altri libri e ti chiedevo che tipo di amicizia c'è tra loro due e come questa amicizia le forma in realtà il grande il cuore della quadrologia di Elena Ferrante è proprio questo il fatto che l'amicizia tra queste due donne così diverse una che si rispecchia continuamente nell'altra ed è una cosa reciproca non è mai solo una o l'altra le cresce le fa crescere e le fa diventare quelle donne che sono ci sono più discontinuità credo nel rapporto tra l'amma e Ruth da un rapporto che non che 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 non ha un rapporto di convenienza ma che può essere le cui asperità possono essere appianate mettendola via in una cartellina con scritto rapporto di convenienza perché perché ti conviene ok e quindi questo per Ruth che è una persona che non ama il conflitto facilita la gestione di questa cosa però notevole è il fatto che per una persona che non ha grandi insomma impulsi verso il mondo nei piccoli flashback che sappiamo della relazione con Neil Alan è la persona che la fa arrabbiare tantissimo e di qui lei parla Neil dice è una scena che mi era piaciuta tanto scrivere in cui lei torna a casa e dice che non sopporta questa ragazza e lui è contento perché la vede animata è viva in quella relazione d'altra non tanto sì però vediamo che poi comunque sto cercando di non raccontare quel poco di drama che c'è no però una cosa interessante è questa allora io in un primo momento in realtà Alanna del presente e Alanna del passato erano due persone diverse erano due persone diverse che costituivano entrambe un modello ideale quindi nel libro per spiegare abbiamo Alanna che parla dalla prospettiva di quando ha 18 anni quindi quando sono all'università insieme e addirittura ancora prima abbiamo degli scambi con la ragazza a scuola sì quando sono piccole 14-15 anni e dopo dopo un periodo di discontinuità in cui non si sono viste Alanna appare sul posto di lavoro di Ruth nonostante non abbia completato il training alla scuola per infermiere le danno lo stesso lavoro perché è bella e simpatica e Ruth dice accidenti proprio qua dovevi venire a lavorare che era il posto che avevo trovato come mio in cui io stavo a mio agio ecco queste due persone non erano la stessa in un primo momento perché ancora partendo da un impianto concettuale in cui osservi le narrative di potere io cercavo modelli per Ruth modelli femminili con cui essere a cui aspirare o con cui essere in conflitto e mi sono resa conto poi in un secondo momento che alcune di queste persone in realtà svolgono la stessa entrambe queste funzioni in rapporti più continuativi all'interno dell'esistenza di una persona anche qua quando è successo questo mi sono resa conto che c'era una complessità in questo rapporto che era molto più grande di quella che in un primo momento avevo immaginato e ci sono dei momenti che secondo me sono anche romantici tra loro due verso la fine del rapporto c'è una sostituzione per esempio della seconda persona rotta a una maniera di parlare con la persona a cui si rivolge romanticamente con la seconda persona parla direttamente a Neil nella prima parte del rapporto ecco nella seconda parte del romanzo Alanna si sostituisce a questa dimensione perché ci sono dei fondamenti che sono di innamoramento tra loro due ci sono tante sfumature però quelle sfumature lì nel momento in cui c'è un uomo una presenza maschile così importante nella percezione della vita di Ruth non c'è spazio per questi rapporti che siano a carattere platonico o erotico non c'è spazio per esplorare nessuna di queste sfumature all'interno di quel rapporto e questo mi interessava mi piacerebbe non scriverò mai un sacco di questo libro perché vorrei fare altre cose ci ho messo troppi anni però ecco Alanna è stato poi il personaggio che inizialmente era veramente cattiva se pensi che la prima parte sviluppata era proprio quella a scuola quindi la ragazza o l'era scuola la scuola la scuola era lì sì sì e poi in realtà quando sono arrivata a costruire questo ecco più lungo mi sono reso conto che questo era un personaggio che mi interessava tantissimo che secondo me viene anche trattata molto male da Ruth non le viene consentita un'opportunità per essere percepita diversamente però la cosa che fa rire è che Alanna è cresciuta in quei dieci anni e il problema è da un'altra parte esatto esatto ma se le dà se la fa io penso questo che se Ruth la facesse entrare dovrebbe far entrare quella parte di femminilità che lei non ha quindi è quello che non fa entrare più che quello che lei rappresenta in realtà come donna come modello di donna però parliamo appunto abbiamo parlato dei contenuti e parliamo un po' anche della forma di questo romanzo chiamamente complessa nel senso che sia dal punto di vista sia dal punto proprio formale è molto composita e quindi mi immagino posso solo immaginare il lavoro che c'è stato dentro innanzitutto parlando dei punti di vista il punto di vista principale è quello di Ruth chiaramente ma alla prima persona di Ruth si intervallano delle altre prime persone delle altre persone che parlano ovviamente sono più sporadiche non sono loro che tirano avanti tirano le trame di tutto di tutto il discorso però sono ecco ci sono come ti ho già detto la a un certo punto la mia voce preferita qual è qual è stata a un certo punto a Ruth viene chiesto di organizzare un evento sono brava non far spoiler deve organizzare un evento e questo evento non viene raccontato né da Ruth né da altri personaggi ma da un noi corale ecco le ragazze ecco è stata secondo me mi ha sorpreso perché chiaramente non me l'aspettavo e però mi ha molto interessato e mi immagino che scrivere un personaggio plurale non sia stato facile ti chiedevo appunto come era andato questo proprio parlando proprio dell'artigianalità della scrittura come è andato è stato duro ed è stato allora diciamo che la necessità di un io sono partita con tante idee tante idee tante emozioni nel senso che comunque tu ti devi immaginare che è una persona di 22 anni che viene da da Pisa arrivata a Londra cosa può essere esposta tutto no e quindi ero partita con tantissime idee sul piano per esempio della forma pensavo che questo libro sarebbe diventato una scatola da cui tiravi fuori tutti i capitoli diversi avevo letto il tempo un bastardo di Jennifer Regan che c'è il capitolo in powerpoint provavo a leggere infinite jazz che non ho mai finito provavo a leggere Pinchon che non ho mai finito però mi interessavano questa cosa volevo capire come si faceva dopo di che quando appunto ho trovato il personaggio poi mi sono anche posta il problema anche con la grande fortuna di avere questo è un grande privilegio dello stare qua dell'essere in contatto con comunità di scrittori e con comunque diciamo un mondo una comunità in cui ti puoi confrontare quindi da altri da altri scrittori e dalla mia gente mi sono sentita porre il problema di appunto di che cosa prioritizzare priorità è una cosa che mi sta molto a cuore cosa prioritizzare nel romanzo e l'idea di priorità è un po' il principio che guida la mia pratica creativa e poi la mia pratica di insegnamento cioè tutto non ci può entrare per cui che cosa si sceglie che porta avanti il romanzo che cosa si sceglie che porta avanti il romanzo da lì in poi quando hai identificato le priorità io saprei che le priorità per me erano che ci fosse un possibile uso femminista di questo romanzo e per esserci un possibile uso femminista di questo romanzo mi interessa una delle cose che fosse accessibile e che fosse qualcosa che poteva direttamente avere un dialogo con il lettore ok quindi una volta identificata la priorità femminista del romanzo vai a capire che cosa ci puoi includere quindi si è ridotto il formato di quello che stavo facendo non perché nel femminismo non ci stanno anche queste cose però perché non era il tipo di operazione che stavo facendo si è creata una spina dorsale che era una narrativa unica che è quella di Ruth che ti guida perché è come una specie di aggancio di empatia con questo protagonista e poi però mi sono trovata un po' in crisi perché comunque avevo capito che il femminismo era una cosa importante per me e ora ero avanti nella produzione di questa cosa e avevo un personaggio che per la sua natura in un anno una donna come Ruth che ha vissuto per dieci anni con un partner che decide la sua vita non è una persona che sviluppa una comunità al femminile in maniera non problematica perché sono processi lunghi e quindi non potevo dare come dire un punto di arrivo a questo libro in senso di trama non poteva esserci un momento in cui questa si sveglia la mattina e si rende conto che ti puoi fidare delle altre donne perché non c'entrava non era possibile non era veritiero e ho cercato di inventarmi un contesto in cui si potesse avere un momento di comunione noi che lo leggiamo e potessero averlo i personaggi non entro nel merito però per fare questo mi è servito un contesto rituale perché il rito consacra e rassicura perché ha una struttura e quindi all'interno di un rito carnivalesco Ruth può trovare quegli agganci che cercavo e quindi è successo questo ed è stato difficile scrivere il plurale perché anche lì volevo fare troppe cose iniziavo in una persona sola poi andavo nel voi però direi che mi piace provare cose differenti in realtà è stata un po' una sofferenza e poi portarlo all'italiano è stata un'altra sofferenza perché è stata l'unica cosa nell'inglese molto allacciata a una cosa poetica che si basa sul suono più che sul significato nell'italiano Veronica ha una sua musicalità che a me piace tantissimo e ho messo veramente mano in pochissimi posti questo capitolo mi interessava che avesse un ritmo anche ipnotico differente perché è un momento di sogno un momento fuori dal normale a questa nozione del carnivalesco e quindi ci ho rimesso le mani io e quando l'abbiamo inviata alla mia editor che non sapeva che ci aveva rimesso la mia idea cosa è successo? è sicuramente uno dei capitoli su cui abbiamo lavorato di più in inglese e in italiano però volevamo questo momento di collettività in cui si confondono i confini del corpo che poi quello che succede quando le donne sono insieme e non si vedono da fuori si possono cancellare i confini individuali e questo è un bel potenziale ho cercato di raccoglierlo su un piano di forma perché su un piano di trama non tornavo con la protagonista ti chiedevo quando hai lavorato appunto per dare forma a questo romanzo hai inserito queste diverse voci ma hai inserito anche degli elementi che sono diversi dalla prosa dalla prosa normale hai inserito appunto come abbiamo detto dei messaggini poi hai inserito delle email delle email ecco questo quando tu hai parlato prima della Igan adesso mi prende forma e forse da questo punto di vista invece proprio forse adesso tu hai detto io volevo metterci tanta roba forse viene dal di lì la necessità di differenziare anche il materiale su cui lavori no mi fa ridere perché il libro di Gianni Ferragra è un libro che avevamo letto tutti che gli interessava la letteratura nel 2011 però quindi è andato dovrei forse smettere di dirlo perché svelo che in realtà mi ci ha voluto semplicemente tantissimo e per elaborare no? dunque scusami ricordami la tua domanda ci ha messo tanto no se il fatto di usare anche dei materiali diversi da quella che è la prosa normale veniva da quello oppure in realtà poi è stata una necessità insomma spiegami sì allora io diciamo che qualsiasi cioè sono partita con tanti interessi e poi ho cercato di ridurli e questa è una cosa che dice Egan stessa che non c'è niente di intrinsecamente interessante nel fare un esperimento letterario è soltanto interessante se è l'unica maniera in cui si può fare qualcosa e lei ha detto questa cosa in difesa di Manhattan Beach come erano sperimenti e diciamo che la forma comunque attiene e quindi io mi sono data la genesi così lunga è stato diciamo che mi sono assicurata che quello che è rimasto di strano che poi non è più così strano Saliruni dice perché devo dire che c'è un'email nel tasto sta così normale usare mail però diciamo che quello che è rimasto di particolare sul piano della superficie del testo sono tutte cose che ho salvato da una rosa più ampia di altri codici testuali io credo che ci fosse un interesse mio da persona che impara la lingua in maniera artificiale la seconda lingua nei codici di comunicazione questa è una cosa un interesse proprio da da come si dice da 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 chi scrive il vocabolario proprio di accumulare le terminologie capito e c'era questo questo era l'interesse mio e poi però mi interessava anche capire come e questo si riallaccia al discorso sul fatto che non che io non mi dispiace collocarmi generazionalmente mi interessava capire quali quali codici predigitali analogici e quali codici digitali influiscono sulla identità di una donna situata nelle spazze del tempo ti faccio un esempio che non c'entra niente ma c'entra perché la mia prima diretta live su instagram sono molto vergognata fino ad ora abbiamo passato gli ultimi due giorni con il mio compagno a guardare dirette live di ragazzini della nostra zona in toscana che fanno esattamente lo stesso tipo di litigi che magari noi facciamo in piazza tramite lo strumento instagram questa è una cosa interessantissima perché si riproducono alcune interazioni che sono proprio di un'età della vita ma cambiano a seconda di quello che è il mezzo comunicativo per me mezzo e forma non sono separate dal contenuto ma articolano il contenuto e quindi questa esistenza dovevo raccontarla tramite questi codici comunicativi allora ti faccio le ultime due domande una riguarda il fatto che io ho trovato in questo romanzo delle incursioni particolari delle incursioni quasi da romanzo horror mi riferisco in particolare a due scene che ovviamente qua non possiamo dire non possiamo raccontare vabbè posso accennarne una rapporto stiamo avvenendo questo romanzo come se questa cosa è un thriller è l'assassino ecco in realtà c'è un rapporto sessuale che è raccontato in modo talmente dal mio punto di vista è ravvicinato che fa quasi spavento ecco e ti chiedevo poi c'è un'altra scena che secondo me è chiaramente horror però questa non la possiamo dire sicuramente splatter e ti chiedevo se ci ho visto bene se ci ho visto giusto questo se era il tuo intento insomma da una parte il tuo cervello in realtà assolutamente sì allora diciamo che io sono non so se perché sono arrivata in Inghilterra quando ero molto giovane o perché diciamo che è il attacco però io sono interessatissima di di norma a qualsiasi cosa abbia a che fare con con un pubblico che attraversa la popolazione quindi ovviamente sono interessata all'horror e sono molto interessata anche a a dell'horror molto convenzionale io sono a parte sono una grandissima fan di Stephen King e poi sono in particolare una grandissima fan di Stephen King in traduzione di Dobner in Italia mi rifiuto di leggere in italiano perché secondo me di leggere in inglese perché secondo me toglie qualcosa quella traduzione che ha formato il mio racconto il mio raccontare le mie stesse paure e quindi l'elemento della paura secondo me è assolutamente centrale raccontare la paura e il raccontare quello che quello come oddio l'inquietante quando quando entro quando entro in città teoria teoria critica non so i video italiani ma Freud di Uncanny è l'inquietante il perturbante il perturbante il perturbante è un concetto che in realtà ricorre in tutto il romanzo certo perché perché lei ha questi sogni vividi in cui in cui la realtà le si presenta in maniera sufficientemente simile alla realtà perché poi questo è il concetto del perturbante per essere familiare ma avere qualcosa che non funziona qualcosa di qualcosa di esagerato qualcosa di differente e forse la sua esperienza di vita tutta è un'esperienza che è distorta da una percezione che quando rimane sola è solo la sua e non è mai una percezione non può essere una percezione oggettiva e l'horror con questo ha che fare ora ho nominato Stephen King se pensiamo alla scena di It quella in cui vanno a cena fuori e ognuno dentro il piatto trova quella che ha la personificazione la paura che si fa a materia e questa è una cosa che mi interessa tantissimo oltre a interessarmi moltissimo che cos'è che attrae chi legge ma magari non legge basta che cos'è che attrae al libro e nell'horror in particolare il lettore o il fruitore di cultura pop quindi assolutamente è questo allora ti chiedevo un'ultima cosa e una mia curiosità questo romanzo è interpuntato da sono ingredienti culinari il titolo è gusci raccontaci questo titolo come è nato allora io questo titolo in realtà ci tengo nello stesso maniere in cui tengo a dare a Veronica tutto il credito della riscrittura italiana è nato dalla mia editor e io ero molto contenta perché siamo scervellate per tantissimo e sono molto felice che mi abbia trovato l'altra donna con cui ho lavorato per per scrivere il libro italiano e abbiamo provato shelf life è un titolo che fa riferimento alla data di scadenza che però si estende come dire in senso metaforico così come si dice essere un wallflower diventa essere la persona che sta in disparte alle feste avere una shelf life per una donna di scadenza del suo essere avvenente di piacere agli altri e quindi c'era questo significato di qualcosa che avesse a che fare con la spesa del consumo perché tutto il libro si articola sulla lista della spesa di Ruth quindi è tramite gli oggetti che lei consuma che si articola la sua esistenza e al contempo avesse comunque qualcosa che si allacciava a questa nozione del genere che c'è una scadenza della persona in particolare della donna buffo perché ho fatto una presentazione con un l'unica presentazione che ho fatto con un moderatore uomo che mi diceva che shelf life per gli uomini sono i 15 minuti di fama cioè i 15 minuti sullo scaffale cosa che a me non era nemmeno venuta in mente però ecco piani che cambiano e Gucci mi piace molto perché secondo me raccoglie raccoglie l'impianto formale nella stessa maniera in cui lo faceva shelf life con riferimento alla scaffale raccoglie l'impianto delle capsule se vogliamo raccoglie l'idea di fragilità e rende l'idea di qualcosa che si può fruire in momenti separati ma che è molto tenue e fragile esatto così è bene se tu non hai altre cose a cui tieni in particolare no 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 io sono molto contenta di tutte le domande che mi hai fatto in particolare devo dire di quello sull'horror che secondo me è un genere io la narrativa di genere nel senso di genere letterario secondo me è uno dei grandi campi della letteratura che non vanno assolutamente lasciati perdere perché mi sembra che sia una responsabilità dello scrittore capire che cosa che fa interessare le persone al libro in un momento in cui hai tante opzioni di di entertainment e se qualcuno ancora considera il libro come entertainment come si fa a farceli arrivare per l'entertainment e poi magari creare qualcosa che ti dà delle domande da completare mi sembra questo poi è la base mi piace il riferimento all'horror perché se vuoi questo è un romanzo d'amore che ti racconta una storia d'amore ma ti lascia delle responsabilità era quello che volevo fare quindi mi fa piacere che si sia parlato anche di questo ti ringrazio a me è venuta in mente anche un'autrice che purtroppo ho conosciuto da non tantissimo tempo è Shirley Jackson anche io sai sono molto centrata perché comunque è una maestra lui dice è stata la mia maestra quindi per tutto tutto quello che ha scritto è assolutamente assolutamente questa io spero appunto questo secondo romanzo Sherry Jackson è una delle muse Daft Auto Warrior è una delle muse e vorrei scrivere qualcosa che ha a che fare con i generi fissi e con l'entertainment magari trova dei buchi di significato altrove per pensare le cose insieme grazie anche Livia sta scrivendo già il secondo romanzo ma adesso è appena uscito Gushi e leggiamo Gushi e ci pensiamo tra un po' esatto grazie a tutti per essere stati qua questa sera e grazie Livia grazie mille a te ciao ciao grazie